Il protocollo di infezza è stato evitivo e quindi non posso mai andare a ringraziare. Ah, io affero che ci siano sempre più corsi di comunali dedicati a speranza altro, non solo il protocollo di infezza, tutti sono committesi, ci siano sempre più corsi di comunali di carattere oggi. Il protocollo di infezza è stato evitivo, io provo come dice Massimo, ma non perché non c'è una cosa dell'opposizione, perché oggi Massimo mi è piaciuto conto, siccome non è vero l'ultimo. Io ho fatto un po' che mi sto passando, se c'è qualcuno mi riputi nel contrato, venga un po' che mi sta passando, però dico che mi portavano voler dire il video di Gaudino e di Faticini, perché io sentivo, come sono emozionato io, sentivo una voce consapevole di Faticini, che ci ha fatto invidare a quello cash, ebbene io non ci mi ricordo, perché ho fatto, anche se l'hanno fatto, che ti chiedono, ma mi chiedono. Grazie bravo! Mi chiedono. Io ho una curiosità, rilevoき spiritualmente, direttamente e ad友. che... che è... che io chiedo fra le parole della plane che riscrivono amministrazioni, che di un momento quando... perché il presidente Abbassimo riceveva comunque così nell'automoodle. Ma c'era concentra cosa? Dovcerò grande e anche subito i problemi. Certo, che con quelle... Attenzione ai piccoli processi, io sono dedicato ai piccoli processi, un piccolo processo penale quando io ho conosciuto l'azienda, purtroppo mi è stata più piccola perché l'azienda continua nella mia azienda, ovvero l'azienda sarà e me ne è bisogna. Però mi ha detto che è stato un momento più importante di dare scuola ai cadarci come voi che non hanno così, che non hanno altro, è stata più una mano, non è da questo per voi. È stata più di questo per voi, è stato un'azienda, non è da questo per voi, oggi sono un'azienda, non è da questo per voi, non è da questo per voi, ma non è da questo per voi, però non è da questo per voi. Però perché purtroppo c'è molta curiosità, e a me lo dico, come ha detto il senatore Casillo, noi che responsabiliamo, quella è la nostra responsabili, ma ne ci portiamo, ci diamo il caffè e magari se lo vedete nella mia ricerca è una cosa dolce, che porta pure le nostre idee, pure le pettine, sono pure le nostre idee. Grazie. Grazie.